Buon pomeriggio a tutti voi, è veramente un piacere essere qui a condividere questa chiacchierata sugli alberi, insomma io adesso cercherò di condividere a mia volta una presentazione, sono molto contento. Allora qui vedete il tema che oggi cercherò un po' di sviluppare, cioè il concetto di comunità nell'albero declinato in termini biologici, ecologici e culturali, però riferendolo non a tutti gli alberi, ma a un albero particolare, quello che nel nostro immaginario chiamiamo l'albero vetusto, cioè i grandi vecchi alberi. Per farlo vorrei iniziare aiutandomi nell'aspetto biologico con le parole di un grande botanico che è vissuto a cavallo tra il 1600 e il 1700, che è diventato famoso per una massima che riguardava in fondo lo stupore dell'uomo di fronte agli alberi, stupore che in fondo è la misura dell'alterità dell'albero rispetto all'uomo e Peter Collinson, di lui stiamo parlando, coniò questa massima che diceva 300 anni per crescere, 300 anni per restare, per resistere, 300 anni per cariarsi, per decadere e forse altri 100 anni prima di scomparire totalmente. E in questa frase, che è quasi poesia più che scienza, che è un trattato scientifico, c'è tutto lo stupore dell'uomo di fronte all'albero che è celato però da un aspetto che spesso ci sfugge, ovvero la transgenerazionalità dell'albero. Vedete gli alberi svolgono i loro processi vitali su una scala temporale che è per noi totalmente aliena, tanto che noi siamo ingannati dagli alberi che ci danno un'apparenza di mobilità che è tutt'altro che reale, semplicemente non possiamo cogliere il lento movimento, anche se delle volte la tecnologia ci viene in aiuto. Questa sequenza di immagini ritrae una quercia, la stessa quercia quasi miracolisticamente fotografata nel corso di un secolo, che ci restituisce l'immagine di un albero ai primi del Novecento alla fine del suo percorso vitale, e poi attraverso i decenni 1920-1950 arriviamo agli anni Ottanta, quando l'albero sicuramente martoriato dalle patologie, ma anche segnato dagli eventi atmosferici, persa la parte apicale ormai deperiente, ci si consegna come un albero quasi nuovo nel 2009, guardate un giovane esemplare letteralmente rinato dai resti dell'albero che l'aveva preceduto, si presenta ai nostri occhi. Vedete, questo inganno incredibile dà conto della difficoltà di cogliere la natura dell'albero, che è uno tanti e mutevole in se stesso, e alla fine ci dà idea della metamorfosi dell'albero che perde la sua individualità per diventare qualcosa che è sostanzialmente il clone di se stesso. A sinistra vedete l'immagine della quercia che vi ho rappresentato prima, e rappresentato in tutto il suo splendore al tunnale, al centro dell'immagine, quello che è un famosissimo clone di Populus tremuloides che si trova negli Stati Uniti, addirittura un nome si chiama Pando, e in realtà è un unico individuo sorto dalle radici di un albero ancestrale, vissuto probabilmente 80 mila anni fa e che oggi è costituito da 47 mila tronchi. è l'esempio più lampante e, se vogliamo, più fantasmagorico delle potenzialità di sopravvivenza dell'albero che molto più umilmente noi vediamo rappresentate nella nostra quotidianità, anche attraverso i nostri alberi vetusti, come il tiglio che vedete nell'immagine a destra, che pur segnato dalla carie, è un albero molto vissuto, vedete si sta letteralmente reinventando attraverso il concorso di ricacci basali, di ricrescita dei tessuti più esterni e di approfondimento di radici che partono direttamente dalla chioma per raggiungere il suolo. Com'è possibile che gli alberi siano in grado di realizzare delle performance così lontane dalla nostra capacità addirittura di cogliere la natura vivente? Perché purtroppo noi come animali e tanto più come esseri umani siamo soliti pensare alla vita, alla vita che ci riguarda, come la vita di individui, ma il segreto vero degli alberi è che non sono individui, gli alberi sono colonie, sono colonie di gemme, quindi tutto quello che noi celebriamo nell'architettura dell'albero, tutto ciò che tocca la nostra anima, la bellezza, altro non è che il pretesto per permettere alla colonia di gemme di cogliere a pieno le opportunità dell'ambiente nel quale si trova a vivere. E vedete, è proprio un problema di lontananza mentale, perché in realtà siamo abituati nel mondo animale delle soluzioni molto simili. In fondo i coralli, che noi apprezziamo per le loro delicate architetture, altro non sono che il risultato della crescita di una colonia dove i singoli polipi, come gemme, non sono in grado di vivere singolarmente, dipendono dalla colonia e la colonia stessa che noi vediamo è il risultato di una intelligenza a noi estranea che permette di costruire la barriera corallina, così come permette di costruire l'albero. E la chiave dell'intelligenza a network, dell'intelligenza non centrata sull'individuo, che è anche quella che governa, ad esempio, le colonie di formiche, in grado di creare delle architetture meravigliose che sono appunto i formicai, che non sono misurabili attraverso l'abilità del singolo costituente della colonia, ma sono il risultato di un coordinamento della colonia. Proprio quel coordinamento che ci permette di considerare gli alberi come delle colonie o delle super colonie. E vedete, le relazioni tra gli alberi, a questo punto, altro non solo che relazioni tra colonie. Quindi quando noi ci muoviamo in una foresta, quando ci muoviamo in un bosco, tanto più viene evocata quella complessità a cui faceva riferimento il professor Montecchio, ecco che ci muoviamo in un'enorme rete del vivente dove distinguere tra individuo, comunità, colonia, super colonia o network diventa un esercizio puramente intellettuale, privo di significato per gli alberi che lo vivono e ne sono partecipi. E quest'immagine, in qualche modo che voi vedete, che è una sorta di passaggio di testimone tra un vecchio albero che porta i segni dell'uomo che lo tagliò e al centro della carità un giovane abete bianco che sta crescendo, è in qualche modo la rappresentazione plastica di come questo network non sia solo orizzontale, cioè mosso nello spazio, ma sia temporale, cioè affondi le sue radici nel passato e inevitabilmente ci parli di riciclo, di rinascita e se volete in modo suggestivo addirittura di resurrezione che comporta in sé il principio stesso della morte. E vi porto adesso dalla biologia all'ecologia in qualche modo proprio per celebrare il valore della morte. Questa è un'immagine un pochino tecnica che ci racconta attraverso l'evoluzione morfofisiologica la capacità dell'albero di occupare, secondo una strategia intelligente, proprio quella del formicaio, non quella dell'animale che vi sta parlando in questo momento, di occupare e mantenere lo spazio raccolto attraverso un'altra forma di modularità. Se in fondo l'albero è fatto di gemme, queste gemme si organizzano nello spazio attraverso rami e tronchi e gli alberi adulti, i grandi esemplari che stupiscono, che colpiscono la nostra immaginazione, altro non sono, seguendo questa logica, delle collezioni di alberi. Dove attraverso la ripetizione degli stessi elementi, gemma su gemma, ramo su ramo, branca su branca, tronco su tronco, voi avete una crescita additiva che porta l'albero a dimensioni incredibili, ma questa è solo una parte della storia, perché gli alberi non sarebbero alberi se a fianco all'aumento di dimensioni di parti non ci fosse anche il decadimento e la perdita di parti. E la mortalità programmata, la perdita di parti, è altrettanto importante della crescita e dello sviluppo. Ecco, vedete, rappresentato in rosso, non sto a tediarvi, la mortalità che poi accompagna la pulizia del tronco, lo svuotamento della chioma e non ultimo la duramificazione dei tessuti interni, quella successione del sistema conduttore dell'albero attraverso le famose cerche annuali che si sostituiscono le une alle altre in senso radiale nel tronco, la parte interna è morta ed è vitalizzata e il tronco diventa semplicemente uno strato di tessuti viventi spalmato letteralmente sull'albero che fu. Ed ecco allora che gli alberi ci mettono davanti a delle, come posso dire, a una sorta di tranello cognitivo dal quale noi non riusciamo a uscire perché inevitabilmente gli alberi sono vivi e morti allo stesso tempo perché in realtà, guardate l'immagine della grande quercia sezionata nell'immagine, 200 anelli, ma di questi anelli solo una decina sono effettivamente viventi quelli più esterni in colore scuro, quello che noi chiamiamo alburno. La maggior parte dell'albero è morto, ma è morto non in vano, è l'albero che fu, che ha permesso alla colonia di arrivare a questo livello, ma è votato al degrado, è votato al riciclo, ed ecco che l'albero diventa cavo, diventa cavo e ci pone di fronte a un altro incredibile enigma che voglio farvi raccontare dal platano in alto a destra che forse molti di quelli che ci stanno seguendo conosceranno perché è un bellissimo platanus orientalis, platano orientale, piantato nell'orto botanico di Padova. Sappiamo esattamente quando fu piantato, nel 1680, quindi è un albero che oggi ha 340 anni, ma è completamente cavo e quindi gli anelli vitali che ormai circondano questa cavità, questa sorta di guscio, sono costituiti solo da 20 anelli, quindi 20 estati di vita di quest'albero. Questo significa che la cellula diventa più vecchia di quest'albero a 20 anni, ma è un albero che nacque o almeno fu piantato nel 1680, quindi è un albero di 20 anni o un albero di 340? Non avremo mai la risposta perché gli alberi sono entrambe le cose, sono giovani e vecchi allo stesso tempo ed è questa loro capacità di incredibile rinnovo che permette di avere le performance che avete visto prima, la colonia che sostanzialmente ha vinto la morte diventando potenzialmente eterna. Ma la chiave di tutto questo, e ce lo ricordavo il professor Montecchio che in qualche modo ha evocato il concetto di sostenibilità nella biodiversità, è proprio la capacità del riciclo, l'immagine centrale di questa slide ritrae la foresta di Biaowiege al confine tra Bielorussia e Polonia, dove il 90% del legno che voi avete sia ancora interno agli alberi o steso a terra, è morto, è votato al riciclo perché quel legno è il risultato di migliaia e migliaia di anni di fotosintesi, di energia chimica, di energia, scusate, energia luminosa che è stata trasferita in energia organica organica attraverso la fotosintesi ed è in qualche modo l'elemento che rimontato dal sole frutto del riciclo permette il rinnovo costante della foresta in qualche modo a bilancio energetico zero poiché il sole gratuitamente fornisce energia ogni giorno su questa terra. Ed ecco che il legno morto è la vera ricchezza perché l'albero è il tramite tra l'energia inorganica dell'universo e l'energia organica da cui tutti noi eterotrofi ahimè dipendiamo. Ma non solo noi perché in realtà l'albero è proprio il risultato di questa lunghissima vita di captazione della luce e quindi è uno scrigno di ricchezza che si offre in tutte le sue parti morte attraverso il ricambio e il riciclo a una comunità incredibile di creature animali vegetali piante inferiori muschi funghi che di quell'albero fanno un vero e proprio pianeta ed ecco che quindi attraversare una foresta un bosco di alberi vetusti significa fare un viaggio interstellare dove ogni individuo secolare è un pianeta abitabile e per chi lo abita la distanza tra un albero e l'altro è una distanza siderale come quella che separa noi dagli altri pianeti della nostra galassia e quindi ricordiamo quando abbattiamo un albero distruggiamo un mondo distruggiamo un universo abbattendo una foresta e di questo noi dobbiamo essere responsabili ed ecco che con questo passaggio di responsabilità giungiamo all'ultimo dei tre pilastri che volevo in qualche modo trattarvi che è quello culturale perché se parliamo di cultura dobbiamo parlare del modo con cui l'uomo si relaziona con questi incredibili esseri viventi e lo voglio fare partendo da un passato che non è tanto lontano perché in fondo l'agricoltura che ha cambiato il volto del nostro pianeta e la nostra relazione con il mondo vegetale data poco più di diecimila anni e in realtà per milioni di anni la nostra vita è stata esattamente questo un confronto tra due modi di interpretare il nostro pianeta se volete tra due culture o tra due tipologie di comunità e guardate questo villaggio sperso nell'Amazzonia in una piccola radura di sopravvivenza circondato assediato dalla foresta questo ci dice una cosa che in ogni momento voi potete essere spassati via dalla natura e lo dimostra la pandemia che è già stata evocata dalla dottoressa Ivancic poco prima noi abbiamo viviamo nell'illusione di dominare qualcosa ma ne siamo ancora oggi dominati anche se abbiamo modificato il nostro mondo affinché potessimo essere cullati in questa illusione ma la seconda informazione che ci viene da questa immagine è che se voi volete sopravvivere in questo luogo dovete conoscere le regole della comunità vegetale che vi ospita per sua bontà e quindi quella relazione esperienziale con il mondo che vi circonda è l'elemento che vi permette di arrivare a sera ancora vivi questo mondo non esiste più l'abbiamo trasformato in questo l'abbiamo trasformato in un mondo in cui l'elemento vegetale è assediato dall'uomo e quando guardiamo questa immagine vedete possiamo essere attratti da Central Park a New York ma in realtà noi siamo progettati culturalmente in questo momento per vivere in ciò che lo circonda e facciamo di Central Park una riserva indiana degli alberi nella quale in qualche modo lavandoci anche la coscienza manteniamo l'elemento vegetale però rinchiuso assediato e in qualche modo continuamente insidiato dalle attività dell'uomo come è potuto accadere questo in diecimila anni beh sostanzialmente perché il nostro modo di leggere il mondo è quello che è rappresentato da questa stanza qui andiamo nel rinascimento quindi siamo forse di fronte all'orizzonte culturale che più di altri oggi possiamo ancora comprendere come uomini moderni e vedete questa è una scala degli elementi che compaiono nel mondo naturale e avete al vertice l'uomo intelligente subito sotto l'animale sentiente poi avete il vegetale che si limita a vivere e infine il minerale che semplicemente è noi con tutta la nostra cultura ancora oggi siamo fermi a questa visione del mondo ci poniamo sul gradino più alto un livello di eccellenza e sostanzialmente misuriamo tutto con i nostri parametri umani e anche quando diventiamo antagonisti di questa visione o crediamo di diventarlo beh lo facciamo in un modo che è ancora fastidiosamente antropocentrico cioè per dare dignità all'elemento vegetale in qualche modo quasi esotericamente lo dobbiamo elevare alla nostra natura umana fino al punto da dargli addirittura come in questa immagine chiaramente modificata al computer fino a dargli addirittura delle parvenze dotarlo di un'anima e quando difendiamo gli alberi usare addirittura delle scelte lessicali che rimandano alle nostre esperienze dell'uomo gli alberi non vengono più abbattuti ma vengono uccisi e gli si fa addirittura il funerale quindi ci manca quella maturità che ci permette di apprezzare l'albero con la forza del riconoscimento della sua alterità rispetto a noi che è l'unico passaggio che ci rimane da fare per sancire questa convivenza perché poi alla fine in mezzo ci sta la negazione del valore all'albero e qui do un assist a chi mi seguirà e parlerà dell'orna di Campagnola perché questa immagine è un albero su cui ho molto lavorato e la sua perdita è stata per me un dolore personale umano fortissimo ancora di più perché quest'albero non è morto per cause naturali ma è un albero che è stato deliberatamente ucciso da qualcuno e dietro un atto come questo oltre la criminalità evidente in questo processo c'è un mancato riconoscimento di dignità all'albero come essere vivente che ha delle caratteristiche delle peculiarità delle dinamiche che sono a noi totalmente aliene ma proprio per questo devono essere fortemente preservate in una logica di lettura interculturale del mondo che ci circonda ed ecco allora che la risposta sta nell'alboricoltura etica ovvero nella capacità di cogliere nell'albero un valore non solo biologico ma anche simbolico e quindi il mantenimento dell'albero rappresenta un servizio reso a tutta la collettività che lo ospita perché gli alberi che toccano l'anima di chiunque anche non sia tecnico lo fanno semplicemente perché ci piacciono perché la dottoressa Ivancic l'ha detto con parole molto più competenti delle mie perché in qualche modo ci fanno stare bene e perché rappresentano altro da se stessi quindi sono dei meta alberi sono degli strumenti attraverso i quali noi siamo in grado di avere un atteggiamento anche introspettivo verso di noi e addirittura sono degli specchi che ci riflettano la nostra natura il grande cipresso di San Francesco che forse biologicamente potrebbe proprio essere stato piantato da San Francesco ci dice semplicemente con questi dati numerici l'età che ha quante generazioni di uomini hanno con lui convissuto e allora vedete il riconoscimento culturale dell'albero vetusto qui c'è una definizione che Coniai molto tempo fa per uno dei libri che erano evocati prima da Carlo Tovoli quando si parlava di pubblicazioni fatte in comune quindi un albero che è un testimone in qualche modo della collettività che lo rappresenta ma ovviamente io sono un tecnico sono un alboricoltore e questo va declinato in termini tecnici quindi vi parlo molto brevemente con le ultime tre slide di un'esperienza professionale anche questa ho trovato molto toccante che riguarda una roverella che era piantata in un piccolo comune dei Colle Eugane i Baone che io anche in questo caso ho seguito per molto tempo questa immagine questo splendido esemplare nel 2009 purtroppo le vicende umane il cambiamento del contesto nella quale quest'albero era piantato l'ha portato ad un lento degrado e quella che è stata per anni un'arboricoltura di accompagnamento dell'albero c'è una lenta interpretazione del suo evolvere e quindi un prevenire un accarezzare un assecondare l'albero nel suo divenire nel tempo inevitabilmente passando il testimone da un arboricoltore all'altro perché la presunzione è quella che il passaggio venga su una scala plurisecolare ha portato alla fine ahimè nel 2019 al progressivo intristimento e quindi alla perdita dell'albero tutto finito a questo punto no perché all'arboricoltura di accompagnamento si è sostituita l'arboricoltura pagliativa cioè quell'arboricoltura che non ha più la presunzione di fare il bene dell'albero ma della comunità di quella che di quell'albero vive cioè tutte quelle centinaia e migliaia di creature che facevano affidamento su quell'albero i pipistrelli le alghi gli insetti metteteci tutto quello che volete e la grande famiglia di ghiri che su quest'albero viveva accompagnare quest'albero verso la morte lentamente sapendo che quella morte arriverà ineluttabilmente ma facendolo nel rispetto e nella dignità dell'albero stesso della comunità che di quell'albero vive fino al punto in cui quest'anno non è stato più possibile mantenere l'albero in piedi per la sicurezza dei passanti e l'albero è stato steso è stato steso ed è stato offerto alla decomposizione quindi in qualche modo all'albero è stato mi piace pensarla così peccando anch'io di antropocentrismo ma lasciatemelo fare in questa occasione immaginando che la quercia avrebbe voluto morire in questo modo stesa al suolo e offerta alla decomposizione riportando la terra quello che della terra era stato e quel taglio che in qualche modo è stato lavorato per simulare una parvenza di naturalità ha anche restituito un proiettile della seconda guerra mondiale che in qualche modo vedete rappresentato al centro dell'immagine è in fondo un altro dei mille segni della relazione di questo individuo con le generazioni che ci hanno preceduto perché parla poi alla fine anche della nostra della nostra storia e l'immagine che io voglio lasciare di quest'albero è quella di un albero che non sarà solo abbandonato alla decomposizione che per un albero significa altri cent'anni di attività prima di scomparire completamente ma diventerà anche un luogo didattico che il comune secondo me con un atto di grande lungimiranza ha deciso di donare ai cittadini affinché la quercia in qualche modo continua a vivere anche nell'immaginario di tutti insieme a tutta una serie di attività che poi proseguiranno nei prossimi anni in questo e vado rapidamente in chiusura c'è un riconoscimento dell'albero che viene lasciato libero e lascio ancora perché voglio rendere omaggio all'olma di Campagnola vi lascio con questa immagine che non è mia ma è di Elia Fontana un collega anche grande fotografo di cui ho rubato un'immagine molto suggestiva lasciamo liberi gli alberi di tornare da dove sono venuti gli alberi non sono qui per noi sono qui anche per noi noi non siamo qui per gli alberi siamo qui anche per gli alberi gli alberi arrivano vivono se ne vanno indipendentemente da noi e non sono musei a un certo punto dobbiamo lasciarli andare lasciarli alla decomposizione e questo darà agli alberi la possibilità di completare il loro ciclo e penso in qualche modo farà anche di noi persone più serene forse arboricoltori più consapevoli vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti